Ben ritrovati con la nostra informazione in Piemonte, in primo piano la povertà in questa regione, diamo subito la linea alla redazione di Torino, Roberto Monteriso. Un saluto a tutti i telespettatori, hai detto bene perché cresce nella nostra regione il numero delle persone che chiede aiuto. Sono bastati pochi mesi dall'introduzione del sostegno di inclusione attiva per vedere emergere una realtà complicata, il servizio. Povertà in crescita in Piemonte sono i dati, anzi le richieste a raccontarlo. Sono state 7.778 le domande per il SIA, il sostegno di inclusione attiva in Piemonte al 31 dicembre 2016, nei soli primi 4 mesi di attivazione del sussidio. Che è una misura al contrasto della povertà, che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Di queste ne sono state accolte 2.433, pari al 31,3% delle richieste totali. Il maggior numero di domande presentate rispetto alla popolazione è stata nel cumule di Novara, seguito poi da Alessandria e Valenza e dalla provincia di Asti. La percentuale più alta di domande accolte sul totale di quelle presentate è nell'area metropolitana di Torino Nord, a Pianezza in particolare, seguita dalla provincia di Biella e dall'area di Cirie, Lanzo. I rispingimenti dovuti al mancato raggiungimento del punteggio minimo per l'accesso al sussidio. L'assessore regionale al lavoro Gianna Pentenero ha evidenziato poi come le misure regionali di reinserimento nell'ambito lavorativo siano un ulteriore strumento. Ci sono segnali positivi di ripresa, spiegato ad esempio sulle nuove imprese, ma anche ancora dati negativi. Tutti d'accordo però che sia fondamentale arrivare ad una legge che preveda il reddito di inclusione come strumento universalistico e non ristretto ai casi di nucleo familiari con minori, con disabili o per donne sole in gravidanza, come il SIA. E oggi, 28 febbraio, è la giornata mondiale delle malattie rare. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si stima che ci siano circa 7.000 malattie rare. In Piemonte sono oltre 31.000 le persone in cura per una malattia rara, ossia una patologia che colpisce 5 persone su 10.000. Quest'anno, in occasione della decima edizione della giornata, è stato lanciato un programma sui social con lo scopo di coinvolgere pazienti e detti lavori, con un messaggio positivo e di speranza. In 5 città italiane, tra le quali anche Torino, sarà visitabile la mostra Ray Lives, un fotoreportage di Aldo Soligno, che da tre anni documenta il quotidiano di chi vive una patologia rara. Il Piemonte, da sempre una delle regioni più attente e sensibili al tema della cura delle malattie rare. Dal 2005 ha promosso l'allargamento delle esenzioni a 40 patologie. Partecipa alle reti europee di eccellenza, con la Città della Salute e della Scienza, l'ospedale Giovanni Bosco di Torino e il San Luigi di Orbasan. Molto bene, e ora possiamo tornare da Alessandra della Cà. La cronaca giochi proibiti con le nipotine. Confermati in appello la condanna a sette anni ad un operaio novese, Emma Camagna. L'imputato, un operaio novese cinquantenne, ha sempre gridato la propria innocenza, rifiutando il processo inabbreviato così da avere uno sconto di pena, convinto di uscire a testa alta dall'accusa di aver abusato delle due nipotine che tra il 2009 e il 2010 erano scolarette. Una frequentava addirittura l'asilo. Condannato dal Tribunale di Alessandria a sette anni e cinque mesi, si è visto confermare la pena anche in corte d'appello a Torino. Per la condanna piena si è pronunciato Lorenzo Repetti, parte civile per la famiglia. Era stata la bimba più piccola a raccontare alla mamma i giochi che faceva con lo zio, dicendo che anche la sorellina maggiore aveva giocato lo stesso modo. La madre corse dai carabinieri, l'uomo fu incriminato per violenza sessuale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gioco si era ripetuto più volte. È una vicenda assurda, disse l'imputato. Ho sempre voluto bene alle mie nipoti, non ho fatto quelle cose. E su questa linea si era battuto il difensore, ma il legale della famiglia aveva richiamato le consulenze disposte dalla procura e lo ha fatto anche in appello. Per i periti, le bambine avevano detto la verità. Lo zio non fu creduto in primo grado, non è stato creduto neanche in appello. Cambiamo argomento. Le volontarie del Centro Antiviolenza Medea chiedono aiuto alla politica per il taglio ai finanziamenti apportato dal Ministero. Quest'anno saranno 180 mila euro in meno. Diventa difficile a questo punto lavorare sotto la pressione dei debiti con le banche e l'impegno a cercare nuovi fondi. C'è meno tempo per l'attività di soccorso delle donne vittime di violenza. Il sindaco Rita Rossa ha promesso di chiamare il Ministero. Dede Vinci. Stavolta chiedere aiuto non è una singola donna, ma l'associazione che si occupa delle donne vittime di violenza. Si tratta del Centro Antiviolenza Medea, che è una onlus che interviene con aiuti morali, materiali e anche con una prima assistenza telefonica, donne vittime di violenza. Il Centro Medea ha subito un taglio al finanziamento di ben 180 mila euro. Le dimensioni di questo taglio ai fondi apportato dal Ministero sono così pesanti da mettere a rischio la capacità di intervenire nei tempi necessari in caso di richieste d'aiuto. Le volontarie del Centro Medea di Alessandria hanno lanciato un grido d'allarme, una richiesta di attenzione anche a tutti i candidati a sindaco per le prossime amministrative ad Alessandria. Naturalmente la prima ad essere stata sensibilizzata è il sindaco e il presidente della provincia Rita Rossa, che ha promesso di intervenire, spiegando che per la prima richiesta fatta a dicembre non si era trovato un referente politico, mancava. Ora invece c'è, quindi ha promesso si attiverà subito e chiederà di essere ricevuta presso la presidenza del Consiglio dal sottosegretario Maria Elena Boschi per esporre direttamente a lei il problema. Le volontarie del Centro Medea di Via Palermo 33 ad Alessandria chiedono che sia fatto un intervento al più presto perché solo in questi primi due mesi dell'anno sono già state accolte 30 donne, mentre l'anno passato aveva registrato una media di 10 donne ogni 30 giorni aiutate. Nuovo colpo messo a segno per Fox, il cane antidroga della Polizia Municipale di Alessandria, che ieri pomeriggio durante un normale controllo ai giardini pubblici di fronte alla stazione ferroviaria ha scovato quasi un etto di asci scioccultato fra la fitta vegetazione di un albero. La droga è stata sequestrata mentre sono in corso indagini per rintracciare chi l'aveva nascosta. E ancora un'azienda che opera nel settore dell'organizzazione e dei corsi di formazione è finita nei guai dopo aver ottenuto un finanziamento pubblico di 257 mila euro per un corso di teoria che di fatto non è mai stato svolto. La denuncia è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Tortona, che ha accertato come la cooperativa che opera nell'area dell'interporto di Rivalta Scrivia aveva registrato fatture false per beni e servizi mai ricevuti, annotando la finta presenza dei partecipanti al corso. L'aggiornamento teorico avrebbe dovuto interessare 147 operai impiegati nel settore del facchinaggio, autotrasporto e movimentazione di merci. Tragedia sfiorata a Castellazzo Bormida, dove una banda, sembra di ragazzini, ha lanciato alcuni sassi dal cavalcavia colpendo il parabrezza di un vulgone che viaggiava in direzione Genova. Gli inquirenti sarebbero già sulle tracce dei responsabili. Sono ragazzini, in alcuni casi addirittura bambini, che forse annoiati dai pomeriggi vuoti di piccole cittadine o di paesi di provincia, trovano eccitanti a recarsi in gruppette o nei pressi dei cavalcavia armati di sassi da lanciare sulle auto in transito lungo le autostrade. L'ennesimo episodio si è verificato l'altro pomeriggio a Castellazzo Bormida, su un cavalcavia che sovrasta l'A26, l'autostrada per la riviera Ligure. Anche qui tre, forse quattro adolescenti, che hanno iniziato il loro giochetto ad alta tensione. Hanno colpito il vetro di un furgone, a bordo del quale viaggiavano due spezzini. Il conducente ha subito bloccato il mezzo, scorgendo i ragazzini che si allontanavano di corsa dal viadotto. Ha chiamato il 113 e da lì a poco sono arrivate le pattuglie della polizia stradale di Ovada, che stanno conducendo le indagini e che si dicono vicine a rintracciare la banda. Hanno anche fatto un appello a quanti possono rendere una testimonianza utile, rivolgendosi altresì ai responsabili che con una missione volontaria potrebbero vedersi alleggerire le loro posizioni. Quella di Castellazzo Bormida è l'ennesimo episodio che va ad aggiungersi alla purtroppo lunga fila di questa roulette russa, iniziata il 27 dicembre del 1996, quando sul cavalcavia della Cavallosa, poco distante da Tortona, persa la vita la 31enne Maria Letizia Berdini, colpita al volto da un masso, mentre era in viaggio col marito. Il processo di secondo grado vide una soluzione a quattro condanni a 18 anni e quattro mesi, per i fratelli Franco, Paolo e Alessandro Furlan e per il loro amico Paolo Bertocco. La comunità alessandrina ha dato l'ultimo saluto stamane all'architetto Pino Astuti. È stato stroncato sabato scorso, a quasi 90 anni, da un malore e lascia la figlia Maria Ludovica che abita a Torino. Noto in città per il suo carattere estroverso, guidava ancora l'automobile. Presidente dell'Ordine degli Architetti, consigliere dell'Alessandria Calcio negli anni 70 e attivo in varie associazioni, Pino Astuti verrà ricordato per il suo carattere amabile e per il piacere di vivere la notte. Cambiamo ancora argomento. Molti e importanti punti all'ordine del giorno nel lungo Consiglio Comunale di Ovada. Il resoconto nel servizio di Fabrizio Mattana. Approvato nel corso delle due lunghe sedute del Consiglio Comunale di Ovada della settimana scorsa, il bilancio di previsione 2017. L'assessore al bilancio, vice sindaco Giacomo Pastorino, che avevamo recentemente intervistato, ci aveva già spiegato i punti principali di discussione di un bilancio che non presentava tuttavia novità di rilievo. Pastorino si definisce soddisfatto per il calo dell'indebitamento complessivo del Comune. Non sono mancate tuttavia critiche da parte dell'opposizione. Giorgio Bricola, di patto per Ovada, ha rimproverato ritardi negli investimenti, mentre Emilio Braini del Movimento 5 Stelle ha puntato il dito su una tassazione ancora troppo elevata, invitando la Giunta a controllare la spesa in maniera più efficiente. Nel corso della seduta sono state varate le aliquote principali, Imo e tassi rimangono invariate, ci sarà un lieve aumento per le utenze domestiche, nessuna modifica per le fasce di contribuzione ISEE, anche se si pensa di aumentare il livello ISEE per chi ha più di un figlio che usufruisce di mensa e trasporto scolastico, con la proposta di modificare il riferimento al reddito dell'anno precedente. Battaglia su Econet, l'azienda che si occupa di raccolta rifiuti, contestato il nuovo assetto della società, ora in possesso dei 48 comuni consorziati, poiché secondo Braini del Movimento 5 Stelle ha comportato costi per rilevare la quota privata. Inoltre è contestato il mancato obiettivo di intensificare la raccolta differenziata che resta ferma al 41%. Dopo un intenso confronto tra il Sindaco Lantero e il Consigliere Bricola a proposito dell'introduzione del porta a porta previsto per il 2018, il primo cittadino ha sottolineato che la Econet deve rimanere totalmente pubblica. Affrontata la proposta di Bricola sulla destinazione della caserma della forestale dopo l'accorpamento con i carabinieri, il Consigliere di patto per Ovada proponeva il trasferimento del baby parking nella struttura di corso Martiri della Libertà, ora occupata dei carabinieri e di proprietà comunale. Il Sindaco ha risposto che ci sono contatti per ottimizzare la situazione e che attualmente la caserma in questione non è né della finanza né della forestale ma dei vigili del fuoco. Infine è approvata con piccole modifiche la mozione presentata dalle minoranze sul mercatino dell'antiquariato. La verità è che la Proloco decide sul mercatino e non il Consiglio Comunale, ha fermato Giorgio Bricola. Sono anni che precedete ad un affidamento diretto, non sarebbe il caso di interpellare anche altre realtà, ha rincarato così la dose Emilio Barini del Movimento 5 Stelle. Inoltre il bilancio dell'associazione dovrebbe essere pubblico dato che riscuota dagli espositori la tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Le nostre risposte le abbiamo già date, ha replicato l'assessore vice sindaco Pastorino e l'appello che ci sentiamo di fare è volto alla collaborazione di tutti. Si è svolto a Casale Monferrato lo spettacolo teatrale di solidarietà della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. Sul palco imprenditori agricoli, personale e amici CIA per raccogliere fondi a favore delle aziende agricole terremotate del centro Italia. Sentiamo. Quest'anno, oltre a un ente sempre dei territori, abbiamo però portato la nostra attenzione al problema degli amici che sono stati colpiti. Sei mesi fa, sono passati due giorni e sei mesi dalla prima scorsa di terremoto. Sono iniziative per noi che noi riteniamo importantissime. Noi abbiamo già, lo sapete tutti, portato ben tre unità immobili alle aziende. Qua con noi c'è un amico di Norcia, vicino a Norcia, che ha una delle nostre casette, noi le chiamiamo casette. Ogni euro che verrà raccolto oggi è un euro che servirà alla quarta casetta, perché noi stiamo lavorando e siamo quasi a compimento della nostra idea di portare in breve termine, ancora un'altra casetta Norcia. Questo è per noi importantissimo. Emiliano Brandimarte, tu sei uno dei tre destinatari delle casette acquistate e donate dalla CIA. Cosa è cambiato con questo piccolo e grande gesto di solidarietà dal nostro territorio? Sicuramente grazie alle casette donate dalla CIA, le CIA del Piemonte di Astia, Alessandria, Vercelli, Novara e Cuneo e all'associazione viticoltori Vinchio, Vaglio, Serra. Noi siamo riusciti ad avere una vita normale, quasi normale, anche perché comunque sia fino a neanche venti giorni fa non erano state consegnate neanche le prime casette, quindi le prime case diciamo definitive fatte dallo Stato italiano. Quindi tramite la casetta delle scia del Piemonte siamo riusciti a ripartire da subito e quindi noi siamo veramente grati a tutta la gente del Piemonte in generale e in particolare a queste associazioni qua della scia. Che si vive due mesi dopo il dramma, la situazione? Beh, le scosse continuano tutti i giorni e non c'è mai sosta, anche di notte, quindi c'è sempre la paura e è tutto più rallentato. Anche la città di Alessandria ha festeggiato la ricorrenza più divertente dell'anno, il Carnevale. Il Clou della Kermesse è stato domenica, mentre oggi si prosegue con altre iniziative in provincia. Sentiamo. Oggi è martedì grasso anche per la provincia di Alessandria, che si prepara a festeggiare la fine del Carnevale. In tanti paesini, condizioni climatiche permettendo, torneranno a sfilare carri e mascherine, ma il Clou dello spirito carnevalesco c'è stato domenica scorsa, con tanta gente in piazza Garibaldi e per le vie di Alessandria, che ha partecipato alla festa più divertente dell'anno. Una sfilata variopinte e allegra, preceduta dalla banda musicale Cantone di Alessandria e dal gruppo Bersaglieri. Immancabile la presenza dei volontari della Croce Rossa e Croce Verde. Presentata per la quattordicesima volta da Stefano Venneri, la colorata Kermesse ha visto salire sul palco delle autorità, con il sindaco Ritarosso in testa e di chi ha lavorato insieme all'amministrazione comunale alla realizzazione di questo evento, i tre vincitori dell'edizione 2017. Al primo posto il gruppo è il carro degli Angeli e Demoni di Sezzadio. Si sono guadagnati il premio di 1.500 euro e la coppa intitolata a Sandro Locardi. A quattro punti di distanza si è piazzato Frugarolo, con carro e gruppo intitolato L'Allegria Prende Vita e 1.000 euro e coppa dedicata a Luciano Cassulini. Il terzo posto è andato a Castelnuovo Belbo per la prima volta al Carnevale Alessandrino. Il carro era ispirato a come eravamo e come siamo. I partecipanti si portano a casa 500 euro e la coppa Paolo Paoli. Siamo allo sport, riprendono oggi gli allenamenti dell'Alessandria Calcio al centro sportivo Michelin di Spinetta Marengo. Dopo la vittoria di domenica contro il Tutto Cuoio la squadra si prepara alla trasferta di Pistoia in programma sabato. Questa sera non perdete l'appuntamento con Grigi nel cuore in onda alle 21 su Telesity 1, canale 111 del Digitale Terrestre. Ospiti in studio Riccardo Cazzola, centrocampista dei Mandrogni e Marcello Feola, giornalista del Piccolo. Subito dopo la pagina sportiva, il meteo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.